Domenica il porto turistico di Marina di Ragusa è stato il teatro di una vera e propria festa delle due ruote. Di scena la quinta prova del campionato regionale Enduro Sicilia, una gara appassionante che ha visto visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Ad aggiudicarsi primo posto in assoluto il palermitano Ivan Coniglio, al secondo posto il nisseno Eros Doria e al terzo posto è stato conquistato dal catanese Davide Cutuli. Un'importante manifestazione sportiva con un'organizzazione impeccabile a cura dell'Enduro Ibleo Club. La vincente competizione su due ruote ha visto in pista motociclisti cronometrati dall'Sd Iblea di Ragusa in collaborazione con l'Sd di Filippo Perciabosco di Catania. Il percorso, partito dal porto turistico, si è steso anche nelle altre zone di Marina di Ragusa, coinvolgendo i sentieri di campagna con tratti molto impegnativi per i partecipanti. Importante è anche la collaborazione con l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, con cui l'organizzazione ha intrapreso un percorso di solidarietà per la stagione 2015, trattenendo un euro dalla quota di partecipazione di ogni pilota per darlo in beneficenza.